Attenzione, la visione di questo video è consigliata a un pubblico adulto vaccinato e considerato individuo sano di mente. Ciao amici del saccheggio sconsiderato online e benvenuti in questa nuova puntata di come fare soldi senza sapere nulla di marketing. Io sono Marco Doria, il marketer più scorretto della rete e se anche tu sei interessato ad arricchirti alle spalle degli altri e vuoi imparare tutti gli sporchi trucchi della rete? Beh, iscriviti al mio canale e guardati tutti i miei video. Nella puntata precedente abbiamo visto come spremere i tifosi di calcio, abbiamo fatto leva sulle loro emozioni e siamo andati a vendergli un megafono da stadio per tre volte il valore di mercato. Oggi, a grande richiesta, andremo ad esplorare gli abissi dell'ignoranza umana. Un target che al posto del cervello ha una mosca con il Parkinson. Signori, sto parlando di loro, le mammine pancine. Se non sai chi siano le mammine pancine, ti invito a andare a visionare la pagina del signor Distruggere su Facebook. Lo trovi anche su Instagram, un uomo che ha fatto delle mammine pancine una ragione di vita. Per farti un esempio, sono le classiche donne che mangiano la placenta, fanno la torta del nascituro con la vagina e la testa del neonato che esce e credono in una enorme marea di cazzate. Ma noi che siamo integerrimi marketer scorretti andremo a fare soldi anche con loro. Quindi andiamo a vedere come iniziare a spremere le mammine pancine. La mammina pancina ha una vongola al posto del cervello. Ma l'esperienza mi insegna che nel nucleo familiare è la donna che ha il potere d'acquisto maggiore. Quindi andiamo a guadagnare qualche bel soldino sfruttando i suoi punti deboli. Per fare soldi dobbiamo sempre conoscere a fondo il target. Quindi andiamo a fare un giro sui social network e andiamo a vedere cosa fanno, cosa dicono e cosa pensano le mammine pancine. Leggiamo questo. Di mamma in mamma. Ciao mamme, ho un figlio che a fine mese compie 14 mesi e questo fine settimana, solo mezza giornata, volevo lasciarlo ai nonni andando fuori con il mio compagno da soli dopo quasi un anno. Solo che mi sento in colpa. La nonna gli darà sia la merenda che cena e io ho paura che lui si affezione al modo in cui lei gli darà da mangiare o sul fatto di stare con lei. So bene che non dovrei essere gelosa di lasciarglielo ma sono anche molto impaurita perché lo lasciamo senza di noi. Mi sento in colpa. Benissimo, su questo andremo a strutturare il tutto. Ricordati di partire sempre da un desiderio di mercato e mai da un prodotto quando vuoi andare a vendere qualcosa. In questo caso il desiderio di mercato è l'ossessione di avere il figlio accanto, il figlio vicino. La mamma ha paura che il figlio si dimentichi di lei quindi vuole averlo sempre accanto e ha questa ossessione, questa gelosia. Quindi dobbiamo andare a cercare un prodotto che si possa sposare con questo desiderio di mercato. Il desiderio delle mamme di non staccarsi mai dal proprio figlio. Andiamo quindi su Amazon e cerchiamo il prodotto che fa per noi. Non cerchiamo un paio di catene e un lucchetto. Pensiamoci bene, qualcosa che possa aiutare le mamme a stare sempre accanto al proprio figlio o viceversa. Ci sono pupazzo dudoneonato, peluche morbido, coniglietto rosa. Pare che ci siano questi pupazzetti a forma di straccetto che servano per far sentire l'odore della mamma al bambino. Quindi la mamma si mette questo straccetto addosso per un tot di tempo e il bambino sente l'odore della mamma. Prezzo corrente 7,59 euro. Applichiamo la regola del 3 e arrotondiamo. Facciamo prezzo 29 euro. 29 euro per uno straccetto. Ma noi siamo marketers corretti e andremo a inserire in questo prodotto inutile tutto quello che serve per caricarlo di emozioni. Oh la madonna! Ragazzi ho già acquistato il pupazzetto che è questo qui. È praticamente un pezzo di stoffa con una testa. Soltanto un rimbambito lo prenderebbe per pupazzo perché è un tovagliolo in sostanza. Ma noi andremo a caricare questo prodotto inutile di leve emozionali. Seguimi! È venuto il momento del naming. Il prodotto lo andremo a chiamare tutto di mamma. Proprio per andare a fare leva su questa sua ossessione di avere il figlio tutto per sé. Come payoff utilizzeremo la parola pupazzo spargi amore perché impregnato dell'odore della mamma spargerà feromoni verso il figlio e il figlio non potrà mai dimenticarsi di lei. Ovviamente questo è quello che crederà. Ora creiamo la grafica del prodotto. È importantissima per attirare l'attenzione del target. Utilizzeremo Canva come al solito e ti metto il video veloce giusto per non farti vedere passaggio dopo passaggio perché se no questo video durerebbe due anni. Per prima cosa facciamo una foto del prodotto e andiamo a scontornarla. Significa andiamo a togliergli lo sfondo. Di modo che posso metterla dove voglio e non ho elementi che mi danno fastidio. Quindi mettiamo il tutto di mamma sopra con il payoff pupazzo spargi amore. Mettiamo la foto di una bambina molto carina con gli occhi azzurri e mettiamo una frase che nella mente del target rievoca la cosa guarda questa bambina mi sta parlando. E mettiamo porto la mia mamma sempre con me. Andiamo a mettere ancora una scritta di fianco al pupazzo Profuma di mamma. Questa sarà la grafica per il nostro prodotto. Ora andiamo a creare i testi per il nostro video. L'headline è la parte più importante di tutto il nostro video. In questo caso utilizzeremo una leva molto importante la leva più efficace che esista nel copywriting ovvero la leva della paura che in questo caso avendo un target abbastanza morboso si sposa benissimo. Sai che tuo figlio potrebbe non volerti più bene? Ragazzi questa spaccherà di brutto. Ora andiamo a creare la parte centrale del nostro video ovvero il nostro body. Prendiamo degli elementi che possono interessare il target. Direi di inserire una sindrome. Una sindrome a caso in realtà. Questa sembra perfetta. sindrome di alienazione genitoriale. Non ci interessa neanche sapere cosa sia. Ora prendiamo il numero totale dei bambini nati l'anno scorso e andiamo a dire al nostro target che tutti questi bambini potrebbero soffrire di sindrome di alienazione genitoriale. È chiaro. Tutti i bambini possono soffrire di questa sindrome come tutti i bambini possono soffrire di un semplice raffreddore. Ma quello che succede nella mente del nostro target è che leggendo un numero specifico preciso la nostra affermazione sembrerà autentica e reale. Quindi non andranno a fare nessun'altra associazione. In questo modo abbiamo creato un problema. Nel copywriting è importantissimo creare un problema agitarlo il più possibile e poi presentare una soluzione. Si chiama schema PASS problema, agitazione, soluzione. Creato questo andiamo a presentargli la soluzione. La soluzione a tutti i mali ovvero che tuo figlio si dimentichi di te è questo pupazzetto sparge amore chiamato tutto di mamma. Ora che abbiamo inserito la soluzione è tempo di andare a inserire nel nostro body un bonus. Il bonus è quella cosa che distoglie l'attenzione dal prezzo. Il nostro target cosa farà? Dirà ok guarda questo prodotto non è uguale a quell'altro perché ha in più questa cosa. Quindi più cose inserisci nel tuo cestino più il tuo target non farà attenzione a fare prezzi paragonativi con altri prodotti. In questo caso ho notato sui social che le mammine pancine hanno uno strano feticcio ovvero quello di conservare mangiare santificare la placenta come se fosse il santo graal. Benché la cosa mi faccia schifo come una pozza di vomito alla sagra del vino di Asti andremo a creare un nostro ebook chiamato La placenta e vita 101 modi per conservare la placenta e ora andremo a inserire la solita call to action che serve a mettere urgenza per fare un acquisto subito. In questo caso ci basterà dire che la promozione durerà soltanto 24 ore anche se non è vero perché un video sui social cioè non può avere questo privilegio di dirti guarda che tra 24 ore scade tu lo lascerai girare sempre e nessuno se ne accorgerà mai. A differenza dell'altro video dei tifosi questa volta utilizzeremo soltanto delle immagini per montare il nostro video quindi vai su google procurati delle immagini di mamme con dei bambini in braccio che ridono e sembrano felici anche se non sono inerenti al parlato non ti preoccupare perché ci penserà il target a fare l'associazione mentale. Mi raccomando per essere il più realistico possibile utilizza immagini in bianco e nero quando devi parlare di qualcosa di negativo e utilizza immagini a colori quando devi parlare di qualcosa di positivo. Altra cosa quando utilizzi solo le immagini crea degli zoom molto lenti per dare un senso di movimento al video. Consiglio finale la vera merda digitale richiede sempre il filtro artefact quello che simula che ci siano dei raggi in camera proprio in questo modo. Ricordati sempre che i video che convertono di più sono i video che fanno schifo quindi assicurati di creare un video che faccia schifo credimi è veramente così convertirà di più di un video molto figo come fare i soldi con le mammine pancine ciac si gira Sai che tuo figlio potrebbe non volerti più bene? Da mamma in mamma Lo sai che in Italia 458.151 bambini l'anno rischiano di soffrire di sindrome di alienazione genitoriale Tua figlia potrebbe non riconoscerti più o prestare più attenzione solo al papà Questo è l'incubo di ogni vera mamma Ma non preoccuparti grazie a tutto di mamma tuo figlio avrà sempre tra le mani una piccola parte di te che sei la persona che gli ha donato la cosa più importante Tutto di mamma è la soluzione che stavi cercando per volere più bene a tuo figlio Grazie al sistema Soft Twist che conferisce a questo particolare tessuto la proprietà di trattenere il latte materno sprigionando i feromoni della mamma tuo figlio avrà sempre la sensazione di essere con te anche quando ti allontani per lavoro o per andare a fare la spesa Metti un po' del tuo latte materno su tutto di mamma e tienilo sotto la tua ascella una notte intera Tuo figlio non potrà mai dimenticarsi di te Non ascoltare i consigli delle suocere o delle invidiose che non sono mamme Assicurati che tuo figlio sia per sempre tuo acquista ora tutto di mamma l'incredibile prezzo di 29 euro al posto di 40 e riceverai compreso nel prezzo la placenta e vita l'ebook con 101 modi di conservare la placenta sono già 1904 le mamme soddisfatte che hanno acquistato tutto di mamma attenzione la promo è valida solo per 24 ore acquista subito così potrai anche tu avere un bimbo tutto di mamma ora non ti resta che mettere il video sulla tua pagina facebook e creare una pagina di vendita sul tuo sito web ricordati che non è mai il prodotto creare il mercato ma è il mercato creare il prodotto e tu da bravo marketer devi essere molto bravo a monetizzare questa regola ora che sai come fare soldi con le mammine pancine io vado a secerdere altra merda digitale mi raccomando se il video ti è piaciuto metti like condividi ma soprattutto scrivi nei commenti il tema del prossimo video il marketer più scorretto della rete vi assolve monetizzate in pace chi è piaciuto non è piaciuto ma si è piaciuto Grazie a tutti.